ciao ragazzi bentornati a tutti una nuova video recensione di robots kingdom oggi abbiamo un modello un po particolare abbiamo su richiesta di un nostro utente alberto antonio roccaro che aveva richiesto questo soggetto probabilmente lui si riferiva al modello g1 e purtroppo devo deludersi ma il modello g1 non ce l'ho perché l'ho venduto in tempi non sospetti sempre mi pento di averlo fatto perché ai tempi non sapevo che avrei diciamo intrapreso questa avventura con questo canale e quindi mi sarebbe davvero piaciuto mostrarvi anche il giocattolo g1 che comunque per il soggetto per quanto riguarda questo particolare soggetto ha fatto veramente epoca e storia ma diciamo abbiamo questa versione masterpiece che da un punto di vista del collezionismo anche più bella ma veniamo al modello dicevo che un modello un po particolare perché chiaramente come vedete da queste immagini quello di cui oggi vi parlerò è il bellissimo will jack quindi personaggio che tutti noi conosciamo con il nome di saetta che era l'inventore degli autorobot saetta che era in alto modo si trasformava in una lancia stratos una delle macchine più belle mai costruite negli anni 80 che hanno gareggiato nei circuiti mondiali con la livrea dell'alitalia quindi orgoglio tutto italiano per questo modello infatti come vedete sulla confezione stessa è stato rilasciato il logo su licenza della lancia proprio il logo della casa automobilistica italiana perdonatemi come vedete la confezione è la classica confezione della takara tomi dei nostri masterpiece lmp 20 e will jack per l'appunto che il personaggio il nome inglese non americano con cui questo personaggio era stato diciamo creato come vedete sulla parte superiore della scritta c'è la digitura lancia stratos turbo dalla parte successiva nella parte posteriore troviamo delle immagini del nostro will jack in compagnia dell mp 10 optimus prime nella forma robotica entrambi e nella forma diciamo veicolare quindi che lui esce proprio dal rimorchio di optimus qui ancora un'immagine della forma veicolare e qui qualche immagine che ritraggono il nostro soggetto in diciamo diverse pose con le armi che sono in dotazione a questo modello quindi che dire andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno di questa confezione che io ho già tirato fuori voilà abbiamo il nostro bellissimo will jack nel nostro set trasformato in una lancia stratos turbo con la splendida di brea dell'alitalia come vedete la forma della macchina ce la ricordiamo tutti sia per chi segue diciamo l'automobilismo sia per chi conosceva questo soggetto questa è la splendida forma di questa auto che diciamo è una delle più belle supercar che abbiano mai creato e devo dire che anche nei transformers una particolare attenzione è stata rivolta ai modelli e le case automobilistiche italiane come la lancia come la lamborghini che hanno ritratto diversi soggetti proprio con i loro diciamo modelli più esclusivi in questo caso la lancia stratos ve la ricordate questa bellissima auto con questa forma molto futuristica per l'epoca con questo parabrezza tondeggiante così le classiche griglie nella parte posteriore del cofano che conteneva per l'appunto il motore dell'auto questa forma così bella aerodinamica che dire era veramente un gioiellino questa macchina e questo modello la ritrae molto fedelmente questi modelli masterpiece davvero sono belli e sono diciamo da acquistare soltanto anche solo per tenerli esposti così in alt mod perché sono veramente stupendi e danno veramente una grande immagine molto fedele di quelli che sono i modellini veri e propri quindi la faccio girare da tutte le parti vedete come sono stati proprio realizzati anche i particolari dettagli come gli specchietti retrovisori del dell'auto le varie feritoie anteriori e laterali anche sul cofano anteriore le feritoie posteriori come vi avevo fatto vedere prima l'alettone posteriore anche i i fanali di coda che sono stati ricreati in maniera molto molto fedele tutte le scritte all'italia e le decorazioni con la tipica livrea tricolore sono state riprodotte fedelmente i cerchioni di colore rosso così com'erano i com'era il modello originale e che dire una vera e propria riproduzione perfetta di quel veicolo dell'epoca d'oro allora di questo modello esistono due versioni una che questa versione che voi vedete qui è un'altra versione che per l'appunto ritrae il soggetto in anime color che non riporta alcune decorazioni della livrea e la parte del parabrezza invece di essere traslucida e quindi trasparente ma diciamo opacizzata oscurita in questo caso nel caso della versione anime color è sempre in plastica traslucida ma in diciamo in colorazione celeste e quindi proprio in maniera più fedele magari all'anime quindi chiaramente io ho preferito acquistare questa questo modello che ritrae fedelmente l'alt mod perché è quello che mi interessa maggiormente poi considereremo anche il prezzo di questo modello e capiremo che per i completisti più sfegatati cosa che io non sono grazie a dio e sicuramente c'è ci sarebbe la possibilità di acquistarle entrambi in maniera tale da poter tenere esposto questa in veicolo in forma veicolare e magari l'altra anime color in forma di robotica ma andiamo a vedere adesso la trasformazione di questo splendida vettura in robot ma prima di fare ciò voglio farvi vedere il contenuto di questa confezione che oltre chiaramente al veicolo abbiamo diciamo queste splendide istruzioni questo foglio di istruzioni diciamo in parte in bianco e nero che ritraggono tutti i vari diciamo come vedete le varie immagini del modello sia in forma di in alt mod che in forma robotica con le varie caratteristiche come per esempio la lunghezza il peso l'altezza engine ferrari fiat quindi ci sono anche le caratteristiche del motore la potenza di 114 kilowatt sono 155 cavalli credo e poi ci sono le specifiche solite del robot come forza intelligenza velocità resistenza grado coraggio potenza di fuoco e skill che dovrebbe essere l'abilità poi ci sono illustrate tutti le varie armi che vedremo ad uno ad nella nella nel modello e poi i passaggi per la trasformazione in bianco e nero chiaramente e queste sono le foglie di istruzioni ancora all'interno ci sono la classica scheda con diciamo le specifiche tecniche del personaggio che sono i valori che vi ho elengato prima la scheda in cartone plastificato e all'interno troviamo un splendido lanciarazzi da applicare alla spalla del robot che credo che si c'è anche la possibilità di applicarlo qui eventualmente anche se sia nella serie animata non è mai stato visto si può anche applicare sul tettuccio dell'auto ma a noi non interessa anche perché rimane diciamo questo fessura scoperta all'interno e adesso andremo poi magari in fase di trasformazione a recuperare che c'è il tappino che va all'interno però poi dovrebbe ritornare indietro ma in questo caso non lo fa poi abbiamo un altro accessorio che quest'arma che diciamo la pistoletta di saetta che è molto piccola anche perché saetta come vedete anche dalle specifiche tecniche non aveva una grandissima potenza di fuoco qui come fa il blast asset quindi una potenza di fuoco media perché lui essendo l'inventore degli autobot magari non prediligeva il campo di battaglia ma affrontava il nemico attraverso le varie sue invenzioni le varie trovate che lui sperimentava di volta in volta dynabots we've got a job for you me grimlock no like orders me slag no like anything we really need your help why won't you give us a hand me don't know why not so we help this time come vedete quest'arma può essere anche inserita in questa parte inferiore dell'auto a rappresentare quindi a formare una specie di marmittone grosso queste cose nei modelli di oggi dei transformers quindi gli accessori che si integrano perfettamente nel nella modalità veicolare e sono molto belli infatti sin dai tempi in cui uscirono magari anche modelli come gli alternators o i binaltech già si vedevano questi diciamo accessori le varie armi che si trasformavano in parti come le marmitt o come il motore dell'automobile e questo era molto bello perché vanno ad integrarsi perfettamente nella trasformazione e poi come ultimo accessorio c'è questa valigetta che sinceramente non ricordo di aver visto nella serie animata però essendo il jack un inventore sicuramente sarà stata una valigetta degli attrezzi o magari qualche dispositivo qualche diciamo qualche sua particolare invenzione poi magari andremo a vedere nello specifico cosa questa rappresenta o se ve lo ricordate voi inseritelo nei commenti magari potete darmi qualche informazione ma procediamo adesso davvero con la trasformazione mettiamo da parte questo dirello e vediamo un poco di trasformare il robot io la trasformazione la eseguo in diretta perché mi piace farvela vedere abbiate pazienza se sarà un po lunga e complessa perché in questi modelli è davvero lunga ma io preferisco davvero farvela vedere un attimo però prima pesiamo il robot in forma veicolare accendiamo la nostra bilancia e vediamo che in forma veicolare il nostro saetta pesa 139 grammi quindi chiaramente che chiaramente tutto in plastica perché diversamente non potrebbe sopportare le sollecitazioni della trasformazione e andrebbe a graffiarsi come abbiamo visto in qualche modello precedente come quello di jets che ha qualche parte in metallo che purtroppo si è rovinata nella trasformazione andiamo quindi a trasformare questo modello allora se non ricordo male anzitutto vanno diciamo staccati queste parte laterali con un poco di sagacia e di pazienza e delicatezza vanno ecco fatto si staccano dagli alloggi quindi la parte posteriore viene diciamo separata in questo modo la parte degli sportelli viene sganciata e così liberiamo diciamo come vedete il modello nelle sue parti principali andiamo ad estendere quindi le gambe del robot in questa maniera una e due eccolo qui rimettiamo nella posizione originale ecco qui e andiamo a posizionare i piedi che si allungano in questa maniera e si mettono in forma diciamo orizzontale la stessa cosa per l'altro come vedete nella parte posteriore ci sono queste parti qui che vanno ripiegate così in maniera tale da creare la base d'appoggio per distribuire bene il peso e garantire stabilità al modello e poi ci sono queste parti che vanno girate in questa maniera e ulteriormente questi si abbassano e vanno a diciamo girarsi così sempre senza fare troppo danno credo ecco sì è ad inserirsi così in modo tale da bloccarsi e fermare la diciamo la parte per formare la parte posteriore della gamba come vedete anche la parte posteriore è completamente coperta nel frattempo mi è diciamo saltato uno specchietto lo faccio vedere così nel particolare che lo andiamo a inserire di nuovo nella sua nel suo alloggio così ed ecco qui che le gambe sono belle e formate ragazzi la trasformazione di questi modelli è molto complessa devo dire che ci sono modelli anche realizzati che hanno una trasformazione ben più complessa di questi della Takara però già queste sono molto impegnative e vanno fatte sempre e perlomeno le prime volte con il foglio di istruzione davanti perché non sono assolutamente intuitive però poi magari facendolo una due o tre volte queste trasformazioni si ricordano i vari passaggi e quindi avvengono in maniera automatica stacchiamo l'armetta e passiamo alla parte posteriore come vedete già si intravede la testa del robot che è perfettamente integrata in questa parte quindi passiamo alla parte posteriore che è anche la parte più particolare più bella della trasformazione anche se più complessa quindi andiamo a alzare questo diciamo questo questa parte di cofano che come vedete è anche a una specie di movimento a molla e separiamo le parti diciamo del paraurti posteriore e facciamo liberiamo le braccia che da questo punto di vista sono nascoste qui nei fanali di coda quindi andiamo a separare questa parte qui e farla girare abbiamo liberato le braccia e ulteriormente questa parte di diciamo gli alettoni vanno girati in questa posizione così la le braccia girano così fuoriescono i pugni e a loro volta poi il pugno verrà diciamo posizionato girando in questa maniera la stessa cosa la facciamo per l'altro quindi andiamo a liberare il braccio liberiamo il pugno giriamo l'alettone e giriamo ulteriormente il pugno così ora qui c'è la parte un pochino più complessa anzitutto liberiamo la testa attraverso questo pannello che si apre così lateralmente spingiamo in avanti la testa che attraverso questo meccanismo di rotazione viene rivelata poi 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 andiamo a liberare anche le le alette visaletta che erano le classiche alette trasparenti accessori che nel giocattolo G1 spesso sono rarissime e non si trovano e poi posizioniamo ben benino le ruote e la parte della schiena così uno e due spingendo un pochino verso l'esterno in maniera tale da farle rientrare in questa posizione qui questa linguetta si posiziona in maniera orizzontale in maniera tale che girando un po' tutta questa parte se questa servirà da spessore per posizionare bene la schiena del robot quindi abbiamo qui le braccia uno e due ecco fatto ed ecco qui il nostro saetta ben trasformato a questa rimane questa parte come vedete le ruote sono andate a finire in questa posizione qui questa parte andrà a coprire le ruote in maniera tale da coprire tutte le parti vuote del del robot anche nella parte posteriore come vedete è andare a diciamo a nascondere anche ruote o particolari che magari diversamente darebbero anche fastidio nella forma robotica ed ecco qui il nostro saetta adesso ci andiamo ad applicare questo splendido ehm ehm l'angiarazzi sulla schiena e poi ehm come vedete le ehm mani sono ehm articolate in questa maniera quindi le tutte le dita insieme le quattro dita nella mano possono essere eh ribaltate e girate e andiamo ad inserire attraverso l'incastro di questa linguetta qui all'interno della di una fessura nella mano che con un pochino di ehm ehm attenzione un po' di pazienza viene diciamo inserita nella giusta fessura e e vanno richiuse le mani le mani sono praticamente articolate come quella dei modelli dei Cavaliere dello Zodiaco eh vintage per chi li conosce ed ecco qui il nostro Wheeljack che ha il nostro saetta con le sue tutti i suoi accessori e andiamo anche a mettergli in mano la sua valigetta così bene eccolo qui ed ecco qui cari amici il nostro Wheeljack in forma robotica disposto con tutti gli accessori e addosso quindi vedete che ha un lanciarazzi che non è sparante ma che il cui missile la cui munizione può essere tranquillamente sfilata che è questa specie di grosso siluro qui che può essere risposto ridisposto sulla sul suo alloggio sulla sua spalla e il la sua arma diciamo di ordinanza che in questo caso è una piccola pistola laser e poi c'è questa valigetta che vi ho fatto vedere prima che non ricordo bene cosa sia se sia una valigetta degli attrezzi attivista diciamo la funzione da inventore di Saetta o se non ricordo male potrebbe anche essere un qualche dispositivo che in una puntata Saetta va a recuperare sul suo all'interno del suo laboratorio sul pianeta Cybertron adesso non ricordo di preciso se fosse proprio questo quel tipo di dispositivo che lui ricercava comunque qui c'è il nostro Saetta in tutto il suo splendore vedete com'è bello con la sua livrea italiana è proprio diciamo un Transformers che rappresenta un po' l'orgoglio per noi italiani magari da piccoli non ci rendevamo conto che questa livrea fosse proprio dell'Ali Italia rappresentasse i colori della bandiera italiana perché magari molti di noi non conoscevano il modello di Lancia Stratos con per l'appunto lo sponsor dell'Ali Italia e chiaramente forse chi aveva il giocattolo G1 già ai tempi probabilmente questo tipo di omaggio particolare sicuramente lo aveva già notato vi faccio girare il modello in maniera da poterlo vedere a 360 gradi come vedete tutti i particolari dell'auto diciamo sono ben nascosti le ruote sono al posto giusto in questo caso come vedete anche le ruote posteriori sono scomparse qui dietro la schiena del robot in modo da essere perfettamente integrate all'interno del corpo del robot in maniera tale da non dare fastidio né diciamo alla figura sia esteticamente sia nei movimenti del robot un mio diciamo un nostro cavaliere della tavola ratondo il nostro utente di questo canale Alberto che saluto diceva giustamente a proposito della scorsa recensione di inverno che nei Transformers i particolari delle ruote piuttosto che alcuni particolari delle delle parti del veicolo in cui poi il robot si trasforma in alt mod i robot mod tendono magari ad essere situati e collocati in posti diciamo che possono dare un po' fastidio magari le ruote possono essere messe al lato al piede in maniera tale che il robot possa scorrere sulla ruota questi sono invece particolari che nei Masterpiece diciamo che hanno tranquillamente ovviato rappresentando il robot molto più fedele alla controparte animata i dettagli che comunque si intravedono perché è giusto che nei Transformers secondo me a me piace molto che magari le ruote o qualche dettaglio dell'automobile del veicolo si diciamo si lasciano a vista anche nella forma robotica però l'importante che siano posti nel punto giusto come ci diceva per l'appunto Alberto come in questo caso o come in questo caso che non danno fastidio né alla diciamo alla figura estetica del robot né ai movimenti eventuali alla posabilità del robot che dire come vedete ci sono anche gli specchietti retrovisori che sono andati a finire sulle gambe del robot il muso dell'auto il parafango anteriore sono i piedi e così via e la particolarità di questi masterpiece come vi dicevo in occasione della diciamo della recensione di Starscream masterpiece è proprio quella di vedere come nella parte posteriore diciamo il robot viene coperto non sono lasciati i dettagli diciamo solo nella parte anteriore in maniera tale da poter apprezzare la bellezza del robot solo davanti anche di dietro diciamo che il robot fa la sua figura e tutti diciamo anche le parti della carrozzeria vanno in questo caso a finire anche dietro e niente che dire questo è un bel robot il personaggio di Will Jack come tutti ce lo ricordiamo era l'inventore degli autobot come abbiamo detto era lui che insieme spesso al personaggio di Ratchet quindi di Doc che era il dottore o al personaggio di Perceptor che era lo scienziato degli autobot e spesso inventava armi accessori che potevano dare aiuto agli autorobot in battaglia e proprio lui insieme a Doc inventò e costruì i Dinobots quindi diciamo che era sempre un personaggio molto attivo da questo punto di vista molto entusiasta che magari non si faceva non si faceva non si distingueva in battaglia magari per le doti belliche ma sicuramente la sua grande intelligenza il suo grande entusiasmo lo faceva distinguere per l'appunto attraverso le sue invenzioni e le sue trovate ricordo che Saetta nel cartone animato era sempre ritratto in maniera un po' curva con le gambe un po' piegate invece in questo caso a me piace dargli una forma molto dritta e dargli questa posizione statica proprio perché per rendergli un po' onore visto che comunque il suo altmod è una delle macchine più belle che ci siano e anche il robot è molto bello in particolare a me piaceva tantissimo il particolare del volto della forma della testa che aveva queste due ali laterali che quando lui parlava si illuminavano che mi ricordano molto la testa di Gigi Robot questa mascherina che gli copriva la bocca e queste diciamo queste creste queste questi pannelli che gli sormontavano la testa che gli conferivano un'area una forma piuttosto imperiosa che mi piaceva molto poi aveva queste alette trasparenti insomma era un personaggio che è molto bello soprattutto dal punto di vista dell'altmod era veramente stupendo niente vediamo come sono state ricreate come vedete le pannellature anche qui sotto le braccia nella parte delle ascelle come a simboleggiare proprio alcuni ingranaggi alcuni circuiti del robot e devo dire che questi masterpiece sono molto belli perché rendono i soggetti veramente anche in forma real come giusto che sia per i transformers che non sono dei super robot ma sono per l'appunto dei real robot in qualche modo perché si trasformano in veicoli reali hanno i loro richiami al veicolo per l'appunto niente questo è quanto abbiamo visto il modello in tutte le sue sfaccettature ho notato qui che c'è qualche segno non so se si intravede qualche segno di sprua quella ma essendo realizzati come vedete anche da questa parte essendo realizzati tutti in plastica sempre a favore funzionalmente alla loro trasformazione perché se fossero realizzati in metallo sicuramente al primo tocco al primo sfregamento alla prima frizione andrei salterebbe la vernice come mi è successo con il modello di jazz che vi ho fatto vedere nelle scorse nelle scorse recensioni e invece questi sono fatti di plastica in modo tale da poter sopportare tutte le varie sollecitazioni che dovute alla trasformazione lo andiamo a pesare eccoci qui la bilancia è già in grammi quindi il nostro wheeljack con tutti i suoi vari accessori adesso non so se si vede bene dall'inquadratura ma pesa 148 grammi 148 grammi chiaramente perché è tutto in plastica e quindi non si poteva avere un peso maggiore di questo che dire ragazzi questo è tutto per oggi di questo modello è stato prodotto anche una versione dello stesso mp20 però mi pare che si chiama mp20x o una cosa del genere che ha la colorazione anime ossia questa parte del parabrezza è colorata sempre in plastica traslucida però color azzurro e mancano qualche probabilmente qui manca qualche decorazione con i colori dell'alitalia quindi è proprio anime version questa colorazione mentre questa che ho io è la colorazione fedele al diciamo al modello reale della lancia stratos che correva con i colori con la livrea dedicata allo sponsor dell'alitalia e quindi ho preferito prendere questa i completisti magari potrebbero anche prendere l'una e l'altra in maniera tale da esporre questo magari in forma alternativa quindi a forma di automobile e quella versione anime color in forma robotica perché è veramente molto bello da esporre sia in una modalità che in un'altra quindi ragazzi io questo l'ho acquistato a circa una trentina di euro questi soggetti masterpiece su ebay o su altri siti si trovano davvero con poco però bisogna stare attenti che se siano versioni che io ho versioni Takara Tomy originali e la cosa è molto difficile da capire perché molto spesso anche le versioni che io nella confezione sono identici davvero alla versione originale della Takara Tomy anche nella confezione quindi nelle immagini della confezione io per esempio questo non so se è originale o è una versione che io però a giudicare dal prezzo con cui l'ho acquistato probabilmente è una versione che io ad ogni modo è davvero davvero identica alla controparte reale sia ripeto nella confezione che anche nella forma nel modello quindi per quello che mi servono per quello che magari attribuisco come valore a questo tipo di modelli va più che bene anche questo modello anche se fosse davvero una ristampa cinese quindi ragazzi che dire cercatelo se vi piace su internet si può acquistare si possono acquistare questi masterpiece davvero a poco prezzo se vi piacciono non ci state a pensare tanto perché veramente si trovano con niente più che altro c'è da vedere i costi di spedizione perché se provengono direttamente dal Giappone o dalla Cina dipende da come vengono spediti i prezzi possono aumentare ma sempre in base alla spedizione e ai tempi di spedizione quindi che dire per oggi è tutto io vi ringrazio per la vostra attenzione vi saluto vi do appuntamento a una prossima video recensione e ci sentiamo presto un abbraccio ciao 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 ciao